E' la giostra cavalleresca di Sulmona. Piazza Garibaldi torna a essere piazza maggiore. La giostra di Sulmona, la giostra dei borghi più belli d'Italia, la giostra cavalleresca d'Europa. Cavalieri in campo, per 5 minuti, senza lancia e senza andare sugli anelli. Sulmona, centro Abruzzo, al centro delle meraviglie d'Italia. Grazie a tutti.